Una consulta giovanile come strumento di d'accordo tra le istituzioni locali e la popolazione giovanile, oltre che come efficace metodo per avvicinare i giovani cittadini agli avvenimenti politici che caratterizzano la città. La proposta è stata presentata al Consiglio Comunale di Gela dalla associazione Fronte Giovanile, Movimento Giovanile, di destra in movimento. Uno strumento che comunque sia di aiuto per l'amministrazione, soprattutto per quanto riguarda i temi di tipo giovanile, può essere da supporto per alcune funzioni di tipo turistico, può essere da supporto per alcuni casi di disagio sociale tramite la promozione delle associazioni volontariato e quindi i progetti volontariato come sportelli d'ascolto o giornate a tema e poi la promozione come progetti ad esempio di tornei di tipo sportivo che coinvolgano tutte le scuole e comunque un utilizzo migliore del tempo libero per quanto riguarda i giovani. Abbiamo convolto sia il Consiglio Comunale sia il Presidente del Consiglio Comunale, quindi è stata presentata a due organi e anche all'assessorato delle politiche sociali e dell'istruzione. Tramite questa proposta diciamo che si può semplificare l'avvicinamento tra cittadini e istituzione, quindi diciamo che il rapporto verrà semplificato e quindi i giovani saranno portavoce del proprio dissenso, della propria denuncia e della propria parola. L'obiettivo che il fronte giovanile si prefigge dunque è quello di fornire ai giovani strumenti per il dialogo con le istituzioni. Sarà una consulta che coinvolgerà tutte le fazioni politiche che vorranno farne parte a livello giovanile. Si può adorire qualsiasi associazione studentesca di cui possono entrare a far parte due delegati di questa associazione e dovranno presentare lo statuto alla presidenza della consulta giovanile e quindi da qui si possono scegliere i candidati in base all'attività che svolgono. Possono anche entrare a far parte associazioni di volontariato, associazioni politico-culturale, quindi diciamo un po' di tutto e non c'è colore politico perché l'interesse è quello della collettività.